Allora, sono qui con SOLIDWORKS e con il lavoro di un mio studente e naturalmente qui, non avendo le toolbox, ha provato a creare i denti. Prima, se noi andiamo a vedere, con i denti dritti, ok, e poi ha fatto dei coidali simili, nel senso approssimato. Naturalmente, qui ha sbagliato perché, in pratica, i piani per il flex dovevano essere qui, dunque, semplicemente, era una semplice così, cioè, qui lui ha dato 7 mm, siccome è 24, io qua metto 12, e qui, vediamo, metto 12, dovrebbe essere a 12, e dunque, mettiamo 0, e mettiamo 0, ok, in questi due piani, in modo che, alla fine, veniva così, che è più accettabile rispetto a prima, insomma, è tutta un'altra cosa, ecco, insomma, così posso accettarlo, ma come era prima, dunque, torniamo indietro, cioè, diventa difficile accettarlo, ok, dunque, era semplicemente spostare i piani del comando flessione, flesso, ok, così, insomma, non è tanto accettabile, una via di mezzo tra un dente diritto e il lipoidale, vabbè, ci vediamo alla prossima, vi vediamo in più.